Compleanno speciale per il compianto Giuseppe Codacci Pisanelli a 110 anni dalla sua nascita. Un anniversario festeggiato all'hotel Tiziano con un convegno dal titolo al servizio del bene pubblico, il contributo etico, giuridico e politico di Giuseppe Codacci Pisanelli. Il noto statista è stato ricordato dal Movimento Regione Salento e dal Movimento Culturale Valori e Rinnovamento da parte del consigliere regionale Paolo Pagliaro, Wojtek Pankiewicz ed Erbe Cavalera sono arrivate preziose testimonianze sull'operato e sull'impegno politico di Codacci Pisanelli. Padre costituente ma anche padre di famiglia, la figlia Biancaneve ne ha voluto ricordare il lato umano a testimoniare la sua profonda sensibilità. Un padre davvero molto attento a quello che era il pensiero di ognuno di noi, pensiero nel senso le preoccupazioni che potevamo avere come ragazzi, come studenti. Di tempo con noi purtroppo ne trascorreva poco perché comunque era sempre molto in giro ma ci teneva e lui diceva una volta l'anno, anche un po' di più, andava a cena da solo con uno di noi. Il figlio Vito invece ne ha voluto ricordare la devozione politica attraverso una frase di Paolo VI. La politica come la più alta forma della carità, una politica che però non tutti hanno veramente esercitato lasciando un ricordo di carità e di solidarietà appunto che non tutti hanno lasciato in questo modo. Fu tra i fondatori del Consorzio Universitario Salentino, primo rettore dell'Università del Salento alla cui guida restò per 20 anni consecutivi. Per questo motivo il professore Ervecca Valera ha proposto che l'Università del Salento venisse intitolata al suo nome. Nel momento in cui bisogna dare il nome di un personaggio all'università si pensa sempre ai pari fondatori. Un'università può avere avuto grandi professori ma il fondatore quando c'è è uno. Il secondo motivo è che il suo nome non è un nome casuale ma si iscrive all'interno di una tradizione di valorizzazione del territorio nel rispetto ovviamente e nella convivenza. Quindi è quella di una identificazione. Quindi è un padre fondatore, il nome è l'identificazione del territorio. È stato anche un grande rettore perché all'inizio egli ha scelto dei professori che venivano da tutte le parti d'Italia. La storia è sempre magistra vita e non si deve mai dimenticare perché noi siamo frutto della nostra storia. Tra le sue priorità quella di portare in alto il nome del Salento e investire in cultura in un territorio afflitto da retaggi culturali che hanno soffocato la diffusione del sapere. Noi ricordiamo Codacci Pisanelli e abbiamo come popolo del Salento un debito di gratitudine enorme nei suoi confronti. Innanzitutto perché quando egli è stato ministro ha avuto l'intuizione di non chiedere. Una grande industria che apparentemente portava, no? Abbiamo visto di Talsider a Taranto, il Vaoggi, la Montecatini, poi Montedison a Brindisi, problemi di inquinamento e con tutto il disagio che ne è derivato. Lui disse voglio investire in cultura. A mettere la prima simbolica pietra per la costituzione della regione Salento fu proprio Codacci Pisanelli. Purtroppo però il progetto naufragò presto per i soliti veti politici. Fu proprio lui il padre ispiratore del movimento Regione Salento guidato dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, nato nel 2010. Un progetto realizzato per rivendicare la vera identità del popolo salentino, poiché il Salento per cultura, lingue, tradizioni e altre peculiarità si distingue dal resto della Puglia. L'orgoglio nasce dalla consapevolezza di...